Buon pomeriggio telespettatori di Le Fonti TV e bentrovati a un nuovo appuntamento della TV Week che Le Fonti dedica al diritto penale, una serie di approfondimenti con cui vogliamo spiegarvi e raccontarvi un po' con la cifra distintiva di Le Fonti, quindi in maniera molto pratica quelli che sono dei temi estremamente spinosi. Oggi parleremo di compliance, un argomento che da oltre 20 anni tiene dibattito, tiene banco e questo perché non finisce mai di stupirci e non finisce mai anche di preoccupare gli investitori e le persone di business. Come dicevo lo faremo in un modo molto concreto parlando del caso di Axioma perché non c'è modo migliore di raccontare quello che è il diritto attraverso poi il business. Il diritto è quello, strumentale al business. Non voglio anticiparvi troppo l'argomento, lascerò parlare ai nostri ospiti, do quindi il benvenuto a Filippo Lombardi, CEO amministratore unico di Crayos SRL. Benvenuto Filippo. Grazie Maria. E benvenuto anche ad Abdallah Bushanab, CEO di Axioma Investment. Benvenuto dottor Sianambo. Grazie, grazie. Io partirei proprio da lei perché chi meglio di lei può raccontarci il progetto Axioma. Va bene. Il progetto Axioma nasce da una idea dopo che ho partecipato a un convegno a Dubai che parlava della blockchain e la criptovaluta. Parliamo nel 2017 che diciamo 5 anni fa, febbraio 5 anni fa. Visto il convegno mi era sorta una domanda come riuscire a collegare la criptovaluta a un bene fisso, un bene tangibile. Perché chiaramente il discorso della criptovaluta invovolate un po' qualcosa su internet, un po' qualcosa non è tangibile. Mi era sorta questa domanda e tornando in Italia ci ho pensato tante volte, tanti giorni, tanti mesi, finché mi è arrivata un'idea, quella di acquistare le case dal tribunale, dalle aste, creando un progetto etico e socialmente utile perché comprando le case dal tribunale che ha un valore molto basso e lasciando le ex proprietari all'interno della propria casa pagando un affitto alla società nostra e con il diritto di brillazione cosa facciamo alla società? Facciamo che queste case acquisiscono valore di mercato, le ex proprietari non hanno il disagio di andare fuori di casa a cercare affitti, traslochi e quant'altro e in più paga l'affitto e ha il diritto di brillazione. Questo viene fatto tutto tramite un token che viene legato a questa blockchain, famosa blockchain che un po' di anni fa non si sapeva assolutamente niente di questi discorsi, adesso più o meno si sa qualcosa ma non approfondito. Noi siamo pionieri in Italia del discorso della criptovaluta legata a un progetto reale, siamo l'unici diciamo in Italia che abbiamo un progetto simile a quello che sto raccontando adesso. Questo progetto praticamente dà valore a tutto l'ecosistema che stiamo creando in questo momento e queste case che noi tiriamo fuori dal tribunale, cosa facciamo? Le andiamo a ristrutturare se hanno dei problemi, perché chiaramente uno che ha la casa all'asta non sente più che ha la casa la sua. Chiaramente, essendo tra l'altro insolvente probabilmente non avrà neanche soldi per recuperarla da un punto di vista architettonico e manutenerla. Facendo questa operazione la casa passa di proprietà di Axioma e diventa la nostra e noi riteniamo opportuno che le persone devono avere la loro dignità di abitare in un appartamento diciamo ristrutturato e diciamo adatto all'abitazione e poi una volta fatto questo lui torna a stare a casa sua fino a che vuole. Noi non obblighiamo nessuno ad andarsene via, paga l'affitto in regola. Dall'altra parte ci sono delle persone in Italia che hanno dei soldi che le tengono in banca, le banca non fanno più il loro mestiere di dare qualche interesse a qualcosa, sono diventato custodio del dinaro, per cui mi metti 10.000 euro, alla fine dell'anno diventano 9.000, dopo 2-3 anni diventano 8.000 perché si consumano. Con noi invece c'è questa plus valenza di guadagno acquisendo delle quote di questi token, di queste criptovaluta, participa alla divisione dell'affitto. L'investitore, diciamo, partecipa alla divisione dell'affitto. Quindi gli affitti sono calmierati per gli ex proprietari di casa? Sì, 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 sto calmo sul mercato. Ecco qui c'è una visione veramente, come diceva, estremamente etica, perché come dicevamo sono persone che non hanno le disponibilità magari per portare avanti il mutuo, quindi un affitto calmierato. Mi permetto di dire, soprattutto in alcune città in cui gli affitti raggiungono delle cifre considerevoli e estremamente etico come lavoro. Hai toccato un testo importante perché in Italia ci sono i valori di Asta, 70 miliardi di euro come valore di Asta. Chi ha contratto un mutuo, faccio un esempio, nel 2009, la casa costava tanto e il mutuo è rapportato al valore della casa. Poi è correlato il mercato mobiliare, di conseguenza lui continua a pagare il mutuo che è altissimo e il mercato mobiliare è caduto, è andato giù. Le case sono andate all'asta con un terzo del valore reale da quando lui ha comprato. Se l'ha comprato a 300 mila euro sono andate all'asta a 100 mila euro. Poi ogni asta che va deserta scende del 25% perché lui paga un mutuo su un valore che non c'è. Invece quando noi lo portiamo via la casa dal tribunale lo portiamo con il valore di oggi, per cui è il 30% del valore reale da quando lui ha comprato e paga poco l'affitto. È normale. Per cui noi andiamo a toccare un tasso delle persone in difficoltà e un tasso delle persone che hanno disponibilità che facciamo, li mettiamo insieme e grazie questo axioma, questo che ha avuto disgrazia di non avere la casa, se li metto a posto, è quello che ha soldi aiutando una persona che non conosce riesce a prendere qualcosa di guadagno su una plusvalenza che rimane per una plusvalenza etica, quindi un bellissimo progetto. Per lo Stato, aggiungo solo un pezzo, per lo Stato è utile anche per lo Stato perché la casa che stanno al tribunale non si vaga al condominio, non si vagano le tasse, non si vaga la nettizia urbana, non si vaga niente. Facendo questo movimento, portando la casa fuori dal tribunale, la casa diventa ormai oggetto di tutte queste tassazioni, per cui contribuiamo anche al giro di affari per lo Stato, pagando le tasse allo Stato. Le entrate pubbliche, quindi assolutamente sì. Ecco, Lombardi, da un punto di vista consulenziale invece, come si accompagna un progetto così strutturato e anche innovativo per il mercato italiano? Beh, un progetto del genere innanzitutto abbiamo avuto il piacere di vederlo nascere sin dall'inizio, quindi abbiamo avuto la possibilità di strutturarlo in base alle esigenze del progetto stesso e alla vision del dottor Abdallah. Noi siamo intervenuti principalmente tramite una consulenza continuativa in materia legale, organizzativa e strategica. Per quanto riguarda la materia legale è seguito il progetto da C231, che è la divisione legale di CREOS, coordinata dall'avvocato Giunti e dalla dottoressa Giusti. Per quanto invece riguarda la parte organizzativa e strategica ci ha visto partecipi, sin dall'inizio insieme al dottor Abdallah, nella costruzione dell'intero ecosistema, tramite due diligence e analisi di partner, fornitori, fino agli incontri più importanti per le decisioni della direzione del progetto. Un progetto del genere, come avete capito, si snoda su vari punti, varie criticità ed è anche per questo che ci siamo avvalsi di alcuni partner specializzati per analisi e soluzioni in materia di corporate and tax, soprattutto in ottica di crossboarding. Questo ci ha permesso di rilevare in anticipo alcuni eventuali rischi che un progetto del genere con ambito internazionale comporta e strutturare tutti quei tasselli dell'ecosistema in modo propedeutico al proprio sviluppo e all'esistenza del progetto stesso. Questo è stato fatto anche ideando una serie di società e quindi andando a costituire le società secondo il core business di ogni tassello, al fine appunto di permettere il miglior sviluppo. Tortiamo sul progetto Axioma. Abbiamo iniziato sicuramente a individuare i primi obiettivi, però vorrei che fosse proprio lei a declinarli, signor Abdalla. Gli obiettivi del progetto di Axioma sono ambiziosi, chiaramente, perché parliamo di un ecosistema che va sviluppato in tutto il mondo perché nulla vieta a una persona che sta in America a investire sul progetto di Axioma, compra il token per partecipare all'acquisto delle case che abbiamo detto che stanno al tribunale, perché gli obiettivi sono ambiziosi. Noi abbiamo una società in Estonia, come diceva prima Filippo, che si è occupata delle licenze, si è occupata di mettere in regola la società per quanto riguarda l'emissione del token e dell'exchange. Stiamo facendo una società, anche fra qualche giorno iniziamo a fare in Lituania sempre per avere più licenze, poi lo spiegherò adesso. Abbiamo fatto da poco una società ad Abu Dhabi che con noi c'è un principe della famiglia reale, io ho chiesto anche il permesso, sono stato giù, sono tornato da ieri, ho chiesto il permesso se potevo anche dire che è con noi in società, perché è innamorato del progetto di Axioma. Lo sviluppo praticamente è vasto su una scala mondiale e noi vogliamo creare un sistema di un exchange dove una piattaforma di scambi sia della criptovaluta nostra che delle criptovalute di altre società che iniziano a affacciarsi sul mercato della nuova finanza innovativa. Stiamo facendo questa piattaforma che è di proprietà di Axioma e grazie anche a Filippo e a tutto il team che stiamo lavorando sullo sviluppo. Poi stiamo creando un sistema di pagamento elettronico, un sistema di pagamento tipo le banche virtuali, digital bank, queste cose che girano da una decina di anni per il mondo, che non si va più in banca, non si va più alle sportelle bancari, non si va più, si fa tutto dal telefonino o dal tablet. Per cui l'ecosistema viene, lo scopo è questo, di creare una piattaforma dove uno va a comprare il token per partecipare all'acquisizione delle case Last dalla piattaforma nostra, poi lo va a vendere sempre sulla piattaforma nostra e con il sistema di pagamento entra con i soldi suoi e esce con i soldi suoi, sempre con il stesso sistema, senza andare a cercare soluzioni diverse. Per cui il progetto è completo, il sviluppo sarà mondiale, è normale che siamo una start-up e ci vuole un piano di marketing molto molto forte, non ci mancano le risorse per farlo, ecco, abbiamo gli scopi chiari. Raccontato da lei sembra quasi semplice, nel senso ha una capacità narrativa notevole, quindi è molto chiaro il progetto, in realtà dietro si capisce che ci sono una serie di scatole, abbiamo parlato già di diversi paesi, diverse società coinvolte, quindi in realtà c'è una struttura estremamente complessa alla base. Chiederei proprio a Lombardi di entrare un po' nel merito di quello che è il tema anche della nostra tavola, abbiamo detto che questo caso serve anche a declinare la compliance e di compliance deve essere davvero moltissima dietro una struttura talmente complessa, quindi come l'avete strutturata, come evitare tutti i rischi connessi a questo tipo di progetto? Beh esatto Maria, un progetto del genere ha delle criticità e delle peculiarità molto molto specifiche, bisogna essere attenti su vari fronti e bisogna fare in modo che ogni tassello sia perfettamente in linea con l'altro, in modo tale da evitare quelli che possono essere tutti i rischi che un progetto del genere in ambito internazionale può incorrere. Noi abbiamo messo a disposizione sin da subito diverse risorse per tale progetto e su base settimanale risorse si aggiungono proprio per l'espansione e la dinamicità del progetto stesso. È chiaro che anche la compliance è stata pensata con un approccio integrato e noi abbiamo sin da subito cercato di integrarla insieme alla tecnologia blockchain. Questo perché? Perché seppur la tecnologia blockchain sia ancora un tema innovativo in questo ambito consulenziale della compliance, questa permette di semplificare, rendere più chiari e trasparenti tutti i processi aziendali che in un'ottica infragruppo sono fondamentali. Non solo, la tecnologia blockchain ci permette di monitorare in modo quasi istantaneo, in tempo reale, tutti quelli che sono i processi da qualsiasi parte, a questo punto direi del mondo, del progetto e permette anche di, è anche una funzione di segnalazione agli stakeholders che un progetto del genere ha. Quindi ti direi senza dubbio che la tecnologia blockchain, implementata sin da subito a sostegno della compliance e alla base della compliance di tutto il progetto, è un elemento fondamentale per la sua riuscita. È un elemento, ricordiamolo, estremamente innovativo perché insomma in Italia è da pochissimo che se ne parla, dobbiamo ricordarlo perché ciò che può sembrare in altri contesti già più sperimentato è estremamente sofisticato e innovativo per il mercato italiano che è quello in cui ci muoviamo, in cui si ha mosso i primi passi anche il progetto Axioma. Vorrei tornare proprio su Axioma per capire, proiettiamoci un po' nel lungo periodo e quando si parla di start up è sempre bene avere questa visione di lungo periodo perché sappiamo che dopo i cinque anni le start up devono andare avanti, devono galoppare in maniera veloce da sola. Quindi vision di lungo periodo. Allora qui diciamo se questi tipi di progetti innovativi, il lungo periodo esiste poco perché l'evoluzione se questo campo è talmente veloce, se parliamo a livello economico, noi vogliamo assolutamente non in cinque anni ma in due anni avere la start up già avviata che funziona al cento per cento, possiamo parlare di 35 anni, noi vogliamo avere il mercato italiano almeno coperto, conosciuto Axioma in tutta Italia, faremo anche delle corsi di formazione, degli interventi dove insegniamo le persone cos'è la blockchain, cos'è la criptovaluta perché purtroppo in Italia non c'è normativa e se ci fosse la normativa magari le persone anche si affacciano a quel mercato in maniera molto più sicura, più determinata, ma non c'è. Noi vogliamo dare un contributo a questo ma torna come marketing per noi perché se uno capisce bene investendo su un progetto come quello di Axioma ha dei guadagni e lo fa volentieri, ma se non lo sa non lo fa. Per cui noi abbiamo l'obiettivo di coprire l'Italia diciamo perché siamo qua e io personalmente dico sempre, io sono grato all'Italia, agli italiani per cui questo progetto lo voglio che parte dall'Italia, nonostante che abbiamo le risorse fuori, poi estendere in tutto il mondo. Vogliamo arrivare a fare anche altri tipi di investimenti diversi, non soltanto su residenziale ma anche tipo castelli che sono all'asta, grandi strutture che sono all'asta, diciamo ci sono delle cose molto importanti, riqualificarle e metterle magari nel giro del turismo o qualcosa è tantissimo, anche nel patrimonio pubblico, immobiliare e statelle, pensiamo alle grandi caserne, alle strutture pubbliche dismesse, sono veramente tantissime. Esatto, tipo per esempio abbiamo un'idea di fare alberghi non verticali ma orizzontali in tutta Italia, sempre con questa struttura che lei ha menzionato adesso, dove una persona fa il viaggio e ha dalle Apulia a Napoli a Milano le stesse identiche camere in tutte le zone, in tutte le regioni che vuole visitare, con gli stessi tipi di staffe, gli stessi tipi di addestramenti, gli stessi tipi di asciugamani e lui non deve cambiare da un albergo all'altro, lui pronota il viaggio 15 giorni e arriva qua, fa questo viaggio etinerante dove vuole lui. Per cui questo è un'ambizione che abbiamo. Io mi avvalgo di strutture perché penso, io penso e basta. Poi ci sono tutte le aziende che collaborano con noi, che ci danno la mano a sviluppare, per esempio quella società in Estonia che ci ha dato la mano a creare tutto il, perché io le ringrazio proprio in questo momento che la FinTech Legal Service ci hanno aiutato a creare la società e prendere anche le licenze, per cui pensando a un progetto non significa che lo faccio io ma lo fanno tutte le strutture, questo lo dico perché dà garanzia anche alle persone che ci sentono, che ci ascoltano, che non c'è il tutologo ma ci sono le strutture altamente professionali e qualificate che portano avanti il progetto. Come giusto che sia, perché poi un conto è avere l'idea e un conto è poi trovare chi ti aiuta giustamente a implementarla. La tutologia non ha mai ripagato. Lei accennava un tema molto importante è quello del fare cultura, che effettivamente è alla base poi anche della riuscita del business. Tante volte in diverse trasmissioni abbiamo affrontato proprio il tema di come fare educazione permetta poi anche di avere profitti, è un circolo virtuoso che si viene a innescare ed è anche una base estremamente etica perché appunto si fa cultura. Non è la prima volta che parliamo di etica perché anche a inizio trasmissione abbiamo detto che poi il progetto Axioma nasce con questo desiderio etico a favore di chi sarebbe costretto a lasciare le proprie case messe all'asta. Tutto questo si ricollega a un tema che fortunatamente si è affacciato nel dibattito, ha preso sempre più concretezza che quello degli ESG. Noi abbiamo titolato questa tavola il doppio volto della compliance proprio perché conoscendo il progetto di Axioma è vero che c'è tutta una parte di compliance necessaria che è un po' il percorso obbligato, la gestione del rischio, però c'è una parte molto bella che è quella scelta, cioè appunto una scelta di valore, una scelta etica. Quindi chiederei a Lombardi di spiegarci come la compliance possa acquisire questo volto molto bello che è quello che va incontro agli ESG. Sì, il progetto in realtà nasce già ESG dalla visione del dottore Abdalla. È stato chiaro sin dall'inizio che un percorso del genere che nasce da un valore etico come quello di contribuire e rendere la comunità avesse già valori intrinsechi molto alti. Per cui da un punto di vista consulenziale questo si è tradotto nel costruire un percorso su base triennale che porti Axioma ad essere un punto di riferimento nel proprio settore sotto questi criteri ESG che adesso stanno prendendo sempre più campo, aggiungo io per fortuna, per far sì che i progetti profit non guardino solo il profitto ma anche e soprattutto a quanto e cosa rendere alla comunità. Uno dei tasselli dell'ecosistema di Axioma è proprio l'Axioma Foundation e tramite questa fondazione che mira a rendere il più possibile la comunità tramite tantissime tantissime iniziative che poi magari il dottore Abdalla ci dirà abbiamo proprio la voglia di innovare ed essere d'esempio e essere tra quelli che attualmente stanno portando alla conoscenza i criteri ESG ma in senso più ampio la voglia non solo di prendere ma di restituire. E questo è un leitmotiv che dovrebbe accompagnare dal nostro punto di vista tutte le società profit. Molto interessante, allora possiamo avere qualche informazione in più sulla Foundation? Ok, la Foundation praticamente nasce dalla mia volontà di poter donare qualcosa a qualcuno che non ha le stesse possibilità che abbiamo noi, ma egoisticamente anche parlando, uno quando dà sta meglio lui, più di quello che ha ricevuto. Questo proprio a livello psicologico funziona così. Non basta a Natale o a Pasqua regalare qualche euro al ragazzo che ferma il semaforo, non basta più, ci sono delle difficoltà oggettive. La Foundation nasce per creare progetti laddove ci sono difficoltà anche in Italia perché non ci debbiamo allontanare tanto, ci sono delle persone anche qui che hanno bisogno. Tanti dicono in Africa, in Asia, ma stiamo qua, facciamoli qua. Vogliamo contribuire anche aiutando le zone dove ci sono persone che non hanno strumenti per la scuola, computer, l'autobus, l'ambulanza, tutti qui in Italia. Poi una volta che abbiamo raggiunto questo obiettivo possiamo farlo anche all'estero. La Foundation ha una parte del guadagno di Axioma che viene destinato a queste iniziative. Ci sono delle persone che si occupano, non mi occupo io, neanche Filippo, neanche il gruppo, lo staff che abbiamo. Ci sono proprio delle persone che si occupano di questo, studiano il progetto, ce lo propongono e noi facciamo le domazioni. Molto bello, tra l'altro rimanendo nel tema immobiliare che è quello che riguarda anche da vicino Axioma, uno pensa sempre di dover andare fuori per aiutare, ma pensiamo per esempio a tutte le persone che a causa dei terremoti vivono ancora adesso in container, in soluzioni di fortuna e non hanno ancora l'accesso a un'abitazione. Quindi veramente a volte non bisogna andare a cercare altrove perché anche in casa, insomma, si può aiutare, assolutamente. Io mi permetto di aggiungere solo un personale commento che poi gratifica a livello professionale, ma anche e soprattutto a livello personale. La parte più bella, secondo me, di vedere crescere un progetto come Axioma non è tanto quella che un'idea locale avuta dalla visione del dottore Abdalla poi abbia trovato riscontro, applicazione e investitori anche all'estero, quindi il progetto è valido, funziona, ma è tanto quella di vedere quanta componente umana e sociale ed etica c'è dietro un progetto del genere, non per necessità, ma per scelta. Sin dall'inizio nasce con questi principi etici e forse sono stati determinanti con tutti gli investitori, con tutti i partner, con tutte le strutture per attrarli all'interno del progetto proprio perché c'era la volontà di capirne di più e al di là del guadagno, ovviamente, che un investitore si aspetta, proprio la voglia di essere parte di un movimento più grande. E questo, soprattutto dopo due anni così complessi, probabilmente è un po' il desiderio che si ha, è difficile tornare indietro e pensare a una speculazione su tutto quello che è successo, quindi un fondamento etico credo che non possa, come diceva giustamente il dottore Abdalla, fa prima di tutto bene a chi lo fa, quindi è bene guadagnare, ma guadagnare sapendo di lasciare qualcosa agli altri dal proprio guadagno, fa bene due volte. Io ringrazio i nostri ospiti per aver condiviso con noi questa progettualità così importante, naturalmente con la promessa, vi lascio, ma con la promessa di tornare a parlarci poi degli step successivi. Grazie a te. Grazie al dottor Abdalla Bushanab, CEO di Axioma, grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a te, grazie a te. E grazie a Filippo Lombardi, amministratore unico di Creios, grazie Filippo. Grazie a te Maria e a tutti gli ascoltatori. Grazie naturalmente ai nostri telespettatori, una breve pausa pubblicitaria e torniamo con gli approfondimenti dedicati alla finanza. Grazie a tutti gli ascoltatori, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie a tutti gli ascoltatori,